Noi non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra, né centrosinistra, noi siamo sopra, sopra! Buonasera, sono Battista Nardini e sono candidato portavoce del comune di Osoppo. E' duro stare qua sopra, ma comunque quello che voglio trasmettervi è una forza, un'ulteriore forza di quella che vogliamo portare, cambiare, cambiare assolutamente quello che stanno facendo e ci stanno distruggendo. Attenzione, secondo me questo è un disegno, perché vogliono farci ridurre per portarci via tutti quei beni culturali che abbiamo e che siano gestiti da persone esterne all'Italia. Per cui io dico due cose importanti che difficilmente possono essere portate via. La terra, quindi come diceva Marco Zullo, tutto l'alimentare. Ci siamo un paese molto diverso e abbiamo una cultura alimentare molto ampia, per cui difesa del territorio, fare agricoltura. e i beni culturali soprattutto. Non è possibile che ci portino via il Colosseo. Chi poi, chi lo porta via, sarà capace di gestirlo e farà i soldi. E questo vogliono fare questi signori. Che se lo comprino i cinesi e poi se lo gestiscono. Per cui, attenzione, dobbiamo dare tanta energia e sostenere e lavorare perché non ci portino via questo. Ecco, anche nel mio piccolo comune di Osoppo, che abbiamo comunque avuto tanti soldi sia per la ricostruzione che anche per la sistemazione del forte di Osoppo e altre cose. Quello che farò e tenterò di fare, se fossi eletto, sarebbe un ufficio, assolutamente un ufficio turistico. Perché dobbiamo essere attivi nel portare turisti nelle nostre zone. Non si può lasciare in mano solo al volontariato. Deve essere persone capaci che portino la gente qua da noi. Ci sono i turisti austriaci e tedeschi che sanno meglio di noi, di quello che abbiamo sul territorio. E questo dobbiamo sfruttarlo. Dobbiamo assolutamente sfruttare le nostre bellezze, i nostri castelli, i nostri ruderi, anche i nostri scavi e tutto quello che c'è. Ecco, io ho finito. Grazie. Viva il Movimento!